sognare l'eccellenza questo l'obiettivo di ispra e besnatese una contro l'altra dopo i colpi esterni di sabato scorso che hanno portato la squadra di razza e quella di rasini alla finale del girone a grande lotta fin dai primi minuti di gioco la prima occasione capita all'ispra con broggi che mette solo davanti al portiere garcia l'argentino apre il piattone malupo dice no ancora ispra pericoloso con lo scarico stavolta di garcia per bellacci ma il tiro del numero 8 va alto di un nulla replica però la besnatese che aumenta i giri del suo motore subito pericolosa quando mette la testa fuori tiro da fuori di leontini deviato para in due tempi oniscodi che fa suo il pallone ancora il numero 10 della besnatese però a creare scompiglio in area di rigore sul cross si salva la meglio la difesa dell'ispra che arma però il tiro di puricelli murato dalla difesa che poi riesce ad allontanare stavolta la minaccia momento favorevole però la besnatese che resta costantemente in attacco ancora leontini lotta e poi calcia verso la porta ancora uniscodia di reno al numero 10 la squadra di rasini vuole con insistenza il gol del vantaggio cross dalla sinistra liberato ma che finisce sui piedi di asprella il numero 2 carica il mancino che dà solo l'illusione del gol con le immagini nella ripresa la besnatese vede premiati i suoi sforzi apertura sulla sinistra per leontini che rientra sul destro e fa partire un tiro che bacia il palo e finisce alle spalle di ogni scodi 0 a 1 al sesto della ripresa esulta la besnatese con leontini che va a raccogliere l'abbraccio del pubblico dove era partito un eccolo benaugurante al tentativo del numero 10 biancazzurro sotto di un gol l'ispra prova a reagire conclusione di prima intenzione da parte di broggi col pallone che però va ampiamente fuori dallo specchio della porta dall'altra parte vuole cavalcare il momento la besnatese sponda di testa da parte di puricelli si beva bene caccia che però spara alto il pallone del possibile 0 2 applausi dalla tribuna per una besnatese che resta costantemente in attacco ma l'ispra riesce a salvarsi e restare in partita poi la squadra di razza vola via sulla sinistra bello spunto in velocità da parte di gueie che guadagna il centro dell'area di rigore ma il suo tiro è parato comodamente da lupo alla lunga però il gol del pareggio arriva razza si gioca la carta sotto casa il nuovo entrato ripaga la fiducia col gol più importante raccogliendo due sponde aeree trovando il diagonale vincente che vale l'uno a uno minuto 27 ristabilita la parità dai padroni di casa un risultato che varia oro per l'ispra che infatti esulta insieme al suo giocatore appena entrato in campo con il gol del pareggio che manderebbe avanti la squadra di razza saltano gli schemi la besnatese torna in attacco cercando il nuovo vantaggio ma un iscodio attento sul tiro di ghilardi centrale col portiere che fa sul pallone dall'altra parte invece l'ispra si rende pericoloso in contropiede da questo lancio lungo dalla difesa garcia va via a praderio e si presenta di fatto solo davanti al portiere ma lupo calcola bene i tempi dell'uscita e di pugno allontana il pallone con l'attaccante argentino che perde una grande occasione garcia prova a rifarsi poco dopo il numero 9 danza sul pallone più volte cercando il momento buono per calciare conclusione da fuori area parata più comodamente da lupo la besnatese prova con tutte le forze a trovare il secondo gol ma è stanca e perde palloni anche importanti sulla tre quarti l'ispra cerca di chiudere la partita in contropiede ma non trova il gol del 2 a 1 a sua volta con la ripartenza e l'apertura su garcia bravo a vedere l'inserimento di gueie ma si salva ancora una volta la difesa della besnatese si resta sull'1 a 1 con la partita che di fatto arriva con questo punteggio fino alla fine fino al triplice fischio del direttore di gara esulta l'ispra che vola al terzo turno playoff e vede sempre più vicino il traguardo dell'eccellenza mentre alla besnatese non basta l'onore delle armi dopo una grande rimonte dei playoff vissuti da protagonisti alla fase successiva ci va l'ispra di ulisse razza non basta l'onore delle armi dopo una grande rimonte di gara esulta l'impacto all'inferno 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 all'inferno